5 minuti della prevenza della processione del Cristo risorto, l'emozione cresce, l'allenarina anche, la città è in fermento, noi siamo carichi. Tutti i portatori sono pronti e aspettiamo con premenza questi primi spari dei portatori che ci dicono che l'ha stata uscita dalla chiesa e poi siamo pronti per festeggiare per le vie da Quigna il nostro Cristo risorto.